Il 2024 sarà decisamente l'anno del Ponte Belvedere, i lavori procedono anche in queste festività e sta lavorando una ruspa perforatrice che taglia l'aria unendo virtualmente la parte bassa del ponte a quella dove ci sarà l'impalcato. E come vedete anche questa mattina le ditte impegnate nella ricostruzione del Ponte Belvedere all'Aquila stanno lavorando. Grazie alle immagini del nostro operatore Donatello Ricci potete vedere come si sta preparando la base, la zona su via Fonte Secco. Ci sarà infatti la fondamenta dove poggerà poi il nuovo ponte che ovviamente sarà realizzato all'esterno e poi portato all'Aquila già montato e soltanto installato mentre successivamente si andrà nella parte superiore. Ma questi non sono lavori da poco, infatti soltanto per queste operazioni ci vorranno almeno sei mesi. La perforatrice serve in sostanza a posizionare i supporti che saranno alla base del nuovo ponte. Obiettivo di comune ditte è quello di chiudere i lavori entro quest'anno per rispettare la scadenza, cioè 200 giorni. Si può dire che ormai i lavori sono nel vivo, stanno procedendo nella parte alla base, quella di Fonte Secco. Passata quella fase, i lavori si sposteranno su via Le Giovanni XXIII e via Persichetti, dove sono previste le estremità della nuova struttura che sarà montata. Ci vorranno sei mesi per preparare la fondamenta. Questa reggerà il ponte, supporti da 120 cm di diametro lunghi sino a 18 metri. Qui poggerà la fondazione. A realizzare i lavori sono le imprese di addetto di IMA, con il supporto dell'architetto aquilano Luca Carosi. 6,1 milioni di euro è il costo complessivo dell'opera che cambierà anche lo skyline della città. Sarà da progetto un ponte strallato in acceio, che si costerà altrove. Sembrerà sospeso in aria, ma sarà retto da cavi ancorati a piloni di sostegno. Una scelta sia per renderlo sicuro in caso di sisma, sia per rendere il ponte compatibile dal punto di vista estetico con l'ambiente. Il nuovo ponte sarà composto da due corse carrabili, un percorso pedonale e uno ciclabile. Un ponte moderno, dunque, che va a sostituire completamente quello che risaliva agli anni 70, in cemento già demolito dopo una complessa operazione. Dovrebbe essere, insomma, l'anno buono, dopo 14 anni di un interlungo complesso e che ha portato a molte polemiche. Di certo sarà importante anche dal punto di vista della nuova viabilità.